Buonasera, sono Vittorio Giannuzzi, sono lo chef di Torre Maezza. Stasera prepariamo un piccolo antipasto base pesce, un lombo di pescatrice marinato al vincotto su una crema di broccoletti della masseria, del nero di seppia che è servito tutto con un'insalatina di misticanza, di carciofili disidratati e per concludere un uovo di quaglia pochè. Iniziamo a risparlare la nostra padella per il nostro lombo una quattro volte prendere e preparare un lombo di pescatrice e marinarlo con dell'origano e delle mele di aglio e del vincotto adagiamo il nostro lombo lo rosoliamo leggermente perché una volta terminata la marinata le rendiamo bello toccante. Nel frattempo abbiamo la nostra crema di broccoli che abbiamo precedentemente preparato, pulite e sbollentate con un fondo di cipolla, olio e sale decoriamo il nostro piatto di servizio con del nero di seppia che ci va a dare anche il contrasto per richiamare la nostra pescatrice adagiamo la nostra crema di broccoletti e la nostra crema di broccoletti lasciamo leggermente cruda la nostra pescatrice perché l'abbiamo marinata tipo un tataki adagiamo il nostro lombetto su questa crema di broccoletti guarniamo della misticanza i gacciofi prima sbollentati e poi disidratati sotto la nostra salamandra leggermente salati per dare il croccante e infine questo uomo di quaglia coché leggermente cotto in acqua acidula e dare il nostro contrasto con il vin cotto che è un po' acidula il piatto è pronto per essere mangiato grazie grazie